Ciao, sono Mr. Forex, questa è l'analisi settimanale del 16 febbraio 2014, sempre utilizzando gli studi dell'Orange Indicator, gli indicatori dell'Orange Indicator che ci danno una mano per capire cosa succede all'interno del mercato e quindi che cosa effettivamente muove il prezzo, se i movimenti di prezzo sono supportati da un reale spostamento delle forze di mercato oppure se i movimenti di prezzo sono solo ed esclusivamente apparenti ma non rispecchiano quelli che sono gli interessi veri del mercato. Come di consueto partiamo subito dall'Orange Indicator, l'Orange Indicator che abbiamo visto nelle ultime settimane continuare a invertire tendenza, quindi eravamo in una situazione long che ha portato il beneficio di un profitto non molto marcato ma comunque un buon profitto per l'intera sua durata, quindi apertura e chiusura della posizione, dopodiché l'Orange Indicator ha invertito il suo orientamento, quindi dandoci una prospettiva di medio-lungo periodo short, ma una volta che ha invertito, ha reinvertito immediatamente, subito dopo, una settimana dopo direi, dandoci di nuovo segnale long e poi una nuova inversione a distanza di un paio di settimane che ci ha ridato quella che è una prospettiva di medio-lungo termine short ed è rimasto sotto la linea di confine tra orientamento short e long, proprio senza aumentare la forza di questo orientamento. da tempo ti sto dicendo che devi stare molto attento perché stiamo vivendo una fase laterale che si sta prolungando, quindi che sta interessando parecchi giorni e quindi i segnali che arrivano da tutti gli studi, che siano l'Orange Indicator o altri studi, sono segnali che devono essere presi con la dovuta cautela. Tanto è vero che stiamo osservando in questo periodo una non tendenza, quindi una non tendenza e un continuo attorcigliamento di tutti gli indicatori di tutti gli studi su loro stessi praticamente. Quindi l'Orange Indicator si mantiene di orientamento short, ma attenzione a quello che vediamo sui grafici. In questo momento devi stare molto attento a quello che ti dicono le bar di prezzo e in ultimo vedremo anche il grafico con le bar di prezzo. Il Money Action ci aveva dato un segnale di interesse short, aveva dato delle barre ribassiste tre consecutive, dopodiché una conferma abbastanza pronunciata, ma ecco che ritorna con una barra che mostra interesse long e come detto ancora lo fa in un momento assolutamente di lateralizzazione dove i segnali continuano ad invertire di settimana in settimana. vedi che non abbiamo una continuità di interesse, ma abbiamo un interesse che si sposta. Sappiamo anche, perché anche questa cosa è da diverse settimane che la dico, che la presenza degli operatori all'interno del mercato di Euro-Dollaro è leggera, quindi loro in questo momento riescono con pochissimi spostamenti di capitali ad invertire la tendenza del mercato e quindi la direzione del mercato. È una fase che in gergo viene chiamata di accumulazione, quindi potrebbe essere che in questa fase laterale, continuando a spostarsi dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, dei limiti del range che sta ricoprendo la quotazione di Euro-Dollaro, stiano cercando di accumulare posizioni da una parte piuttosto che dall'altra. Dobbiamo essere in grado attraverso il grafico di capire da che parte e l'orange indicator ce lo dimostra. Vedremo poi che ci potrebbe dare un'informazione come al solito il Bank's Edge. Per quanto riguarda appunto la parte contrattuale, vediamo che i contratti presenti a mercato hanno avuto un piccolo incremento long e una sostanziale costanza della presenza short a mercato e quindi appunto per questo abbiamo praticamente una sorta di stasi del mercato, visto che non abbiamo un vero e proprio sbilanciamento da una parte, cosa che ha anche determinato quindi l'avvicinamento dell'orange indicator, come possiamo notare, ha la linea di confine, come vedi ha avuto un piccolo spostamento verso la linea di confine ma è rimasto praticamente sulla linea. Per quanto riguarda l'insider statement non c'è molto altro da dire, continuiamo a vedere questo indicatore che si attorcilla su se stesso e non ci dà indicazioni nette, quindi non non ci permette di avere un'idea chiara di quello che sta succedendo, l'idea chiara di quello che sta succedendo è esattamente quella che bisogna stare molto attenti perché stiamo vivendo una fase laterale. Il Last Trader Strategy Screener ci mostra la quarta se non sbaglio barra ribassista, mentre ecco che il Banks Edge dà il picco. Il famoso picco del Banks Edge arriva dove? Arriva sul vertice inferiore del movimento laterale. Vertice inferiore che è stato toccato esattamente la settimana scorsa. Quindi, attenzione perché il vertice inferiore di questo movimento laterale mostra un Banks Edge col picco e sappiamo che normalmente quando ciò avviene viene identificata la fine del movimento. In questo caso potremmo essere in un momento di abbandono dell'area di lateralizzazione che l'euro-dollaro sta continuando ad avere da diversi giorni, perché stiamo parlando praticamente di tre settimane. Quindi limite inferiore, direzionalità verso il limite superiore, abbiamo come ho specificato nel post di ieri su www.fareforex.it, abbiamo diverse possibilità di interpretare il mercato. Quindi fai attenzione alle barre di prezzo, ho messo nel post dei livelli di prezzo a cui fare molta attenzione, stai attento a quello che succederà nella prossima settimana, chiedi una conferma alle barre di prezzo prima di prendere posizione. Con questo è tutto, ti rimando quindi ai prossimi post e alla prossima settimana. La mia tecnica con la ricerca dei massimi e dei minimi, quindi il trading sui momenti del mercato continua, i risultati sono sicuramente positivi. Se hai letto il penultimo post dove ho pubblicato ancora una volta tutte le operazioni eseguite durante la settimana, stai appunto vedendo che il conto incrementa, le posizioni sono di gran lunga superiori quelle positive rispetto a quelle negative. Cominceremo a breve anche la gestione vera e propria delle posizioni per dare maggior respiro alle posizioni stesse e incrementare nettamente quelli che sono i profitti. Quindi vedremo che cosa succederà. Con questo è tutto, io ti saluto, buona settimana di trading, io sono Mr. Forex.